Ciao! Parliamo spesso di connessione. Oggi ero connesso, oggi ho visto i numeri doppi, oggi sono connesso. E poi arrivi al punto dove non c'è più connessione, non cerchi più la connessione, ma per trovarla la cercavi e ti dicevi sono connesso, sono collegato a una forza superiore. Sentire di oggi mi porta a dire che sto testando attualmente l'assoluto. Dopo il tanto il tanto cercare quella connessione non la cerchi più e stai entrando o sei entrato in una nuova dimensione che è quella dell'assoluto dove le tue antenne si sono collegate ad altre frequenze e queste frequenze ti parlano costantemente e la connessione perde di importanza. Non c'è più un io che vuole essere connesso, ma c'è un sentire che si esprime tramite di te, tramite le tue parole, tramite le sincronie, tramite ogni tua cellula. Ed è un bellissimo esperimento quello che sto vivendo. Questo è un video iniziale, un video che avrà un seguito, lo so già. Ora vi lascio con questa riflessione perché siamo come si dice un cantiere aperto, allora sappiamo che la costruzione finale è già lì, perché l'abbiamo vista, perché l'abbiamo progettata come un architetto, progetta una casa. Ebbene, lasci fluire, ringrazi, sei grato e sei felice di condividerlo con tanta gioia che si esprime difficilmente tramite le parole o tramite il non verbale. Qualcosa che fluisce, va e viene, va e viene, una melodia che non ha definizioni e che mai nessuno potrà esprimere con le parole. Ho cercato di condividerla con voi e so che chi doveva ricevere il messaggio l'ha ricevuto. A UGA A UGA A UGA